Dopo i casi di aggressioni da parte di Pitbull, da altri esemplari, uno purtroppo deceduto, l'altro ferito gravemente, sale l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine, soprattutto l'episodio a Villa Severi in cui una cagnolina di razza maltese è stata sbranata da un cane di grossa taglia, aveva colpito molto gli eretini e ha sollevato il dibattito su come prevenire aggressioni come queste. Chiaramente c'è ancora molto da fare e quindi ci saranno maggiori controlli per evitare questi episodi, non è semplice, diciamo che i regolamenti ci sono. Infatti dal punto di vista dei regolamenti comunali il problema non si dovrebbe porre dato che l'accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche per i nostri amici a quattro zampe è vincolato dall'obbligo di utilizzare il guinzaio e, ove sia necessario, anche la museruola. Lo prevede l'articolo 39,2 del regolamento comunale per la tutela degli animali, deliberato nel 2014 e basato sulla normativa regionale. Stesso concetto ribadito dall'articolo 21 del regolamento di polizia urbana, approvato nel 2018 che prevede l'obbligo di guinzaio ed eventualmente la museruola, così che, si legge, in ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose. Quindi ci saranno sicuramente maggiori controlli da parte dei nostri agenti di polizia municipale, ci saranno delle nuove telecamere, sia al parco Arno, al parco di Pescaiola e in altri parchi, però io mi appello al senso civico dei proprietari dei cani. Il problema delle cani sciolti è un problema reale e questo chiaramente si può sopperire con il senso civico, però i controlli verranno fatti e verranno implementati, sono già state date le opportune disposizioni di servizio al personale. Le sanzioni sono sanzioni amministrative, salvo che poi dal non tenere il cane al guinzaio, come nell'ultimo fatto del Colle del Pionta, possono implicare certi comportamenti anche delle denunce a livello penale, come nel caso di specie perché c'è stato sicuramente un danneggiamento di un animale. E proprio breve l'assessore Carlettini prevede nella sua agenda una tavola rotonda per affrontare il problema, la radice. Ci sarà questo tavolo tecnico il 30 di agosto con la presenza dell'ASL, dell'OIPA, dell'EMPA e della Polizia Municipale e appunto affronteremo questo problema di questi cani morsicatori per cercare di trovare una soluzione tutti insieme, quindi pensiamo anche agli allevamenti di questi cani perché i proprietari, chi appunto vuole detenere un cane così impegnativo, va in questi allevamenti, poi non lo sa tenere perché i cani, soprattutto quelli di grossa taglia, vanno educati, vanno controllati e a volte c'è diciamo una superficialità da parte dei proprietari che non riescono a tenere questi cani e non riescono ad educarli.